Stasera è il primo dei tre premi della serata, eh? Le macchine fotografiche sono... Comunque la premiazione va alla qualità musicale e alla partecipazione a questa grande iniziativa che è stata l'Arena del Fall. Quindi complimenti anche per la tua chiesta e per la tua nuova avventura. Detto questo, a saluto. Grazie Claudio Agni, vai! Un quarto di secolo, che suona con voi, ha dato un plus importante e questa sera insieme a Radio Bruno premiamo Gabriele Cambrini. Lo vediamo qua, vai! 25 anni, Pisa Armonica e Qualità ha solo dato veramente un plus a questa grande speciale orchestra. Questo è il tuo premio speciale, facciamogli ancora un grande applauso, vai! 25 anni! Ah, ho sbagliato? Ho sbagliato, sono 30. Mi sono perso i cinque anni che c'ero anch'io perso. Sì, esatto. Meglio, no? Eh, come fanno? È stato assunto da te. Ah sì? Ah, perché avevamo l'orchestra io e suo padre, no? E quindi l'ho assunto io, quindi per i cinque anni me li sono dimenticati. È stata colpa sua di questa gamba, eh? Facciamo un altro applauso, vai, sono 30, no? Vai! 30, 30! Lavoroso! Beh, allora, attenzione, prima di proseguire con la parte musicale... Grazie, grazie. Grazie. Grazie.